Ehi, spingimi lassù. Qui, vieni a lì. Ok. Ecco fatto. Ci siamo quasi. Sono stata in un posto qui. Nella ZQ di Boston. Ci siamo quasi. Grazie. Passiamo dal vicolo. Ah, quel cazzo di gun! È tutto ok, solo giù la testa. Sei. No. Sette. Neanche per sogno. Dieci. Continua. Non lo so, venti. Prova con venticinque. Stronzate. Te lo giuro. Hai venticinque abbarattoli di beccoli. Beh, ventiquattro. Ho appena finito uno. E come hai ventiquattro abbarattoli di beccoli? In un vecchio armadietto militare nell'hotel. Io e Ruben l'abbiamo trovato per caso. E ce lo siamo diviso a metà. Quella roba è ancora buona. Quando le farai ancora? Perché? Secondo te? Le voglio un po'. Sì, lo immagino. Settimana scorsa ti ho salvato dal clicker. Ci penserò su. Avrei dovuto lasciarti crepare. Ah, Cristo. Te ne farò un po' se smetti di parlarne. Sarà meglio che sia buono come dici. È bacon. Certo che è buono. Certo che è buono. Certo. Ecco. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non fare stupidaggine, ok? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lui è qui dentro. Che cavolo ci stanno sparando? Artiglieria militare, resta al riparo! Grazie a tutti. 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 Allie, go, 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 go. Grazie a tutti. 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 a tutti.